E' stata convocata per mercoledì 26 febbraio alle 12 presso il distretto sanitario nei locali dell'ex tribunale di Sala Consilina la conferenza dei sindaci dei comuni che fanno capo al distretto sanitario per decidere una strategia comune al fine di fronteggiare il coronavirus. In attesa della conferenza diversi sindaci del Vallo di Diano hanno emesso un'ordinanza in via precauzionale per dare delle disposizioni ai cittadini. In particolare i sindaci di Itegiano, Montesan Giacomo, San Pietro, Altanagro, Buonabitacolo, Montesano sulla Marcellana, Polla, Pertosa e Sanza nelle loro ordinanze invitano i cittadini che si spostano da e per le aree interessate dal focolaio di diffusione del covid-19 a comunicare al sindaco o agli uffici di polizia municipale i loro movimenti, la data di partenza per le zone indicate e la data di rientro nel comune di residenza. Tali comunicazioni devono essere effettuate a tutela della salute pubblica e a scopo meramente precauzionale al fine di poter consentire alle autorità sanitarie di porre in essere tutte le indicazioni previste dal protocollo del Ministero della Salute. Si consiglia inoltre a tutti i cittadini che negli ultimi 15 giorni si sono recati nelle località interessate dal fenomeno di sottoporsi agli accertamenti sanitari che il caso richiede. Viene infine precisato che l'area del Nord Italia interessata alla diffusione del covid-19 è estesa anche alle città di Milano e Torino e ad altre zone che potrebbero essere coinvolte dallo stesso fenomeno nelle regioni Lombardia, Piemonte e Veneto. A Montesano sulla Marcellana inoltre il sindaco ha fatto sapere che da oggi si attiveranno iniziative di diffusione, quindi distribuzione porta a porta, app comune, social e altro, delle brochure informative emanate dal Ministero per la corretta prevenzione in merito al coronavirus. Il Comune di Sanza invece provvederà ad intraprendere attività di igienizzazione degli edifici scolastici e degli uffici comunali a contatto con il pubblico. Simili provvedimenti sono stati attuati anche dai sindaci del distretto sanitario 71 Sapri-Camerota, che in via precauzionale invitano i cittadini di rientro da zone con casi accertati di coronavirus ad informare il sindaco del Comune a non recarsi presso il pronto soccorso, a contattare il numero verde regionale 800 90 96 99, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, a restare a scopo precauzionale in auto-isolamento fino a intervento del personale sanitario e a contattare il 118 per prima procedura di triage telefonico.